Benvenute e benvenuti, sono le 11, iniziamo puntuali. Emanuela, lascio a te iniziare a introdurre la giornata di oggi e l'appuntamento. Intanto grazie a tutte e a tutti coloro che stanno intervenendo oggi e, come diceva Marco, questo webinar verrà registrato per poi essere condivisibile e rivedibile anche in altri momenti. E' chiaro che è stato programmato per questa giornata perché questa è la giornata che è dedicata al contrasto della violenza sulle donne e la cooperativa, lo sapete, è sempre impegnata in quei momenti che servono per accrescere, migliorare anche l'aspetto culturale della nostra comunità e in generale delle persone che girano intorno a noi. E quindi parliamo dei nostri collaboratori, parliamo di chi ci viene a trovare. Questo è un impegno che ci prendiamo sempre e quindi anche in questa giornata volevamo dare il nostro contributo. E abbiamo scelto come argomento quello della lingua, quello del linguaggio, nella piena convinzione che dalle nostre parole si formino i nostri pensieri e dai nostri pensieri poi si formino le nostre azioni. Ma con le nostre parole condizioniamo non solo le nostre azioni, ma condizioniamo anche coloro che, ecco qua, chiamiamo un nuovo partecipante, condizioniamo anche coloro che sono intorno a noi. E io, siccome sono una mamma di bambine ancora piccoline, penso sempre a quale condizionamento le nostre parole possono avere sui nostri figli. Le parole nostre, le parole che utilizzano i media, le parole che utilizzano i giornalisti. Scusa Marco, prendo veramente pochi minuti per dire che... Ma guarda, Nancy, grazie perché mi stai spianando la strada. Per dire che, ahimè, in questi giorni queste tematiche sono estremamente attuali perché gli ultimi fatti di cronaca ci hanno fatto sentire e parlare tantissimo. Ma questo webinar è stato programmato molto prima perché comunque non è un episodio di cronaca, ma ahimè sono continui episodi. Non tutti hanno questa, diciamo, importata mediatica, ma ce ne sono continuamente. E in queste occasioni quante volte sentiamo ripetere parole come l'amore ha ucciso, l'ennesimo amore troppo forte. No, non parliamo d'amore, non parliamo di questo. Dobbiamo veramente pensare che il nostro linguaggio veramente condiziona i nostri pensieri. Tantissime volte in questo periodo ho sentito dire, no ma non sono il mio papà, il mio compagno, il mio amico, mi lasciano libera, mi lasciano libera. Quindi sono persone giuste. Questi sono esempi di parole che utilizziamo tutti i giorni e che probabilmente però portano dietro con sé dei concetti che devono essere superati. Parliamo appunto di parole, parole inclusive, parole che portano all'inclusività e alla parità. Sono parole anche inclusività e parità che probabilmente in questi ultimi anni sono quasi abusate, le sentiamo così tanto che potrebbero venirci anche a noia. Ma ahimè per passare ad un cambiamento culturale certe parole devono diventare quasi noiose perché devono entrare talmente tanto nel nostro quotidiano da diventare assolutamente scontate. E quindi questo è un piccolo momento di condivisione proprio per dare il nostro contributo in questo passaggio di far passare appunto queste parole come vi dicevo per ovvie scontate e parte del nostro patrimonio culturale. Quindi Marco ho già preso troppo troppo tempo. Tra l'altro io oggi mi sto collegando non dalla nostra cortina ma dall'Austria in una località dove è tutto innevato. Sembra tutto magico, sembra tutto fiabesco ma non è tutto così tutti i giorni. Quindi Marco siamo qua per ascoltarti. Grazie. Per ascoltarmi, per parlarne assieme, ho già mandato in chat anche l'invito a mandare le vostre domande. Avremo un momento interattivo verso la fine diciamo del workshop in cui vi manderemo sia un link nella chat comune sia a schermo. Vedrete un QR code inquadrabile col telefonino dove vi faremo un piccolo quiz diciamo per mettere in pratica quanto non solo tutto quello che ha detto Emanuele sia vero quanto sia scivoloso anche il linguaggio, quanto sia troppo facile usare termini che poi hanno effetti indesiderati o sgradevoli. Ma possiamo vivere serenamente sapendo che sarà facile sbagliare e sbaglieremo tutti e tutti sempre. Non sarà questo il problema. Il problema è la consapevolezza. E non solo sentiamo quanto il linguaggio forma il pensiero, forma le azioni, ma è proprio una cosa nota, una cosa studiata, ricercata, lo vedremo in alcune slide. Quindi è una verità scientifica che come parliamo plasma come pensiamo e come agiamo diciamo. Io quindi senza attendere oltre passo a condividere le slide. Abbiamo chiamato l'equalingua, questo laboratorio diciamo così, perché l'equità è un concetto che tratto abbastanza spesso quando parliamo di sostenibilità ed è un concetto complicato, perché è sempre semplice la giustizia, un pezzo a te o un pezzo a me. Ma non è così. L'equità vuol dire mettere tutti e tutte nelle stesse condizioni. Quindi Don Milani diceva sempre che non c'è niente di più ingiusto che fare parti uguali tra diversi. E quindi mettersi nei panni dell'altro. Mi presento velocemente, io mi chiamo Marco Massarotto, sono il fondatore di Cortina Academy e mi sono occupato di comunicazione con varie agenzie e attività imprenditoriali negli anni. Sono un formatore di Challenge Network da tanti anni e ho vissuto proprio tre anni a Cortina con la mia famiglia dove è nato uno dei nostri figli e è cresciuto. È un'esperienza di cui non saremo mai sufficientemente grati e dove abbiamo lanciato questa iniziativa che si chiama Cortina Academy che è un centro di formazione esperienziale rivolto principalmente alle aziende ma stiamo pensando anche con delle aziende di fare della formazione rivolta ai giovani, ai ragazzi e vedremo se riusciremo già dalla prossima estate. Abbiamo collaborato spesso e volentieri. In realtà abbiamo anche fatto dei corsi di formazione per la cooperativa e questo è stato un particolare onore perché io non pensavo mai di rivolgermi all'impresa del territorio ma di attrarre sul territorio le imprese ma con Emanuele Martina abbiamo avuto modo di lavorare. Oltre che di comunicazione, da molti anni mi occupo di cultura, cultura organizzativa, ho una certificazione INSEAD e Rufsted Insights, ho una certificazione dell'Università di Cambridge sulla psicologia cognitiva e sulla sostenibilità per le imprese con MIT. Quindi diciamo, mi dedico a questo tema e l'inclusività è uno dei Sustainable Development Goal, la gender equality, quindi è una delle tante anime della sostenibilità. Ecco, non poteva esserci giorno più tragicamente adatto, settimana più tragicamente adatta di questa, ci dicevamo, anche per il risveglio un pochino delle sensibilità, dell'incoscienza che il tragico femminicidio di Giulia Cecchettina ha messo in moto. Proprio oggi, insomma, è una giornata rumorosa, invece del minuto di silenzio, come si sta chiedendo, di fare rumore, di non tacere di fronte a dei comportamenti, di fronte a delle parole, di fronte a delle frasi. Questo è quello che viene chiesto alle donne, ma anche agli uomini, di non tacere di fronte a una cultura del suo progresso e contatto. Ne parleremo poco dopo. Vedi, come siamo sintonizzati, George Orwell già diceva, se il pensiero corrompe il linguaggio è altrettanto vero che il linguaggio può corrompere il pensiero. Ma lo diceva Nanni Moretti, chi parla male, pensa male. Quindi parlare male vuol dire esternalizzare e dire delle cose che poi, dopo che le abbiamo dette, influenzano il pensiero nostro e degli altri. Ma sono andato a riguardarmi la definizione di significato, di significare. Il significato non è una cosa nascosta dentro un'idea, è un qualcosa che significa fare segno, rendere segno verbale o scritto qualcosa. Quindi il significato lo costruiamo ogni volta che parliamo di qualcosa. E quindi questo gioco di specchi tra il pensiero che forma la parola e la parola che forma il significato, il senso e il pensiero è qualcosa su cui dobbiamo stare forse un po' più attenti. Dobbiamo stare un po' più attenti anche perché è condizionato dalla cultura, cioè dall'humus, dal brodo in cui cresciamo, dal contesto in cui viviamo, ma anche da tanti e troppi pregiudizi, bias che abbiamo dentro di noi. Abbiamo fatto vari corsi, varie lezioni sui bias cognitivi, è un argomento ricchissimo e molto stimolante, ma uno dei più automatici è chiamato l'implicit bias. Quindi è implicito, il pregiudizio di qualunque natura è implicito. Noi tendiamo automaticamente, implicitamente, ad attribuire a determinati gruppi delle condizioni, dei comportamenti. Gruppi di razza, gruppi di abilità, gruppi di genere, gruppi di cultura, gruppi di linguaggio. Quindi oltre al contesto che ci fa, diciamo così, conformare, no? Al parlare, al sentire comune, che dobbiamo cambiare. Dentro di noi, automaticamente, attribuiamo dei gruppi delle caratteristiche, quasi sempre sbagliando. E lo vediamo anche, banalmente, non solo nel fenomeno di genere, nell'immigrazione. Qui ho questa bellissima vignetta dove da una parte del fiume c'è la nostra terra sacra, il nostro leader glorioso, la nostra grande religione, i nostri eroici avventurieri. Dall'altra parte del fiume, le lande barbari, i tiranni, i despoti, le religioni che sono riti di superstizione o di odio, i selvaggi e gli invasori. Com'è possibile che da una parte all'altra del fiume sia così, no? Forse è da una parte all'altra del nostro cervello, del nostro modo di pensare. Ed ecco allora che si tratta della diversità, no? Quello di cui parliamo è la diversità. Il riconoscimento e l'accettazione della diversità, che è la cosa più difficile. E ne abbiamo mille evidenze, mille... c'è un mondo di diversità, no? Stiamo imparando a riferirci alle persone con disabilità non come a qualcosa che siano handicappati, no? Sei un handicappato, no? Ma come una condizione che abbiano solo una persona con disabilità. C'è un mondo di differenza, no? Nell'usare queste due parole. E anche al di là delle intenzioni, no? Dire sei handicappato vuol dire che sei pregiudicato, che hai dei limiti. Dire sei una persona con disabilità vuol dire riconoscere una condizione, ma non per questo classificarti come una persona che abbia dei limiti, no? È infinito l'uso dei termini nel mondo LGBT, LGBTQ+, diciamo, nel mondo degli orientamenti sessuali, diciamo. C'è una bellissima storia che vi ho linkato qui di quando nasce la parola gay, che nasce in un film con Cary Grant, Susanna, in cui lui, vestito da donna, dice ah, all'improvviso sono diventato gay, sono diventato gioioso, un po' pazzo. Per tanti anni si è usato questa espressione I'm gay, no? Per scherzarci un po' sopra, per dire le cose senza dirle. E al di là degli insulti, proprio anche illegittimi, come frocio, lesbico, altre cose, c'è, vedrete anche qui, se volete approfondire, vi ho messo un articolo del New York Times, la complessità dei termini che forse dobbiamo un po' studiare e usare con maggior consapevolezza. L'immigrato, no? L'immigrato. Dobbiamo per forza definire le persone per il fatto che sono, non sono nate qui? O lo straniero, il foresto, no? Non è che la conosciamo, questa parola la conosciamo. E nero o negro poi ne parliamo tra poco. Ma diciamo, quando parlate di un vostro collega o di una vostra collega, dite è quello bianco? Non sentiamo il bisogno di dire il colore della pelle. Diciamo il nome, quello alto, quello che lavora nel reparto biancheria o alimentari, no? By the way, il signore lì è Giorgio E.A., l'immigrato straniero nero, comunque abbiamo urlato e fatto il tifolo stadio per tanto tempo, no? Guardate anche questa coincidenza, no? 24 anni, nata in un piccolo paese del Veneto, cittadina italiana, diploma di scuola superiore, campionessa nazionale famosa del mondo. Quale delle due? Tutte e due, no? Eppure quale c'è più facile, no? Sentire più vicina? Paola Gono sta subendo da anni, ormai, una serie di aggressioni, ma è una ragazza nata a Cittadella che ha studiato a scuola. Ma che deve fare? Che deve fare una ragazza nata in provincia di Padova con la pelle nera che ha studiato a Padova che è una campionessa italiana? Che deve fare per non sentirsi dire dal caporale vannacci che non rappresenta il proprio paese? Io scusate, non posso pensare che uno che dice quelle cose sia arrivato ad essere generale. E quindi non dobbiamo dire cosa si è, giudicare la persona, ma riconoscere le condizioni. C'è un bellissimo libro che probabilmente troverete nel mio apparto libri, sempre curatissimo della cooperativa, di Gian Antonio Stella, che parla proprio di questo, i termini che usiamo per descrivere l'altro. Ma la diversità a Cortina la conosciamo benissimo. Io camminando nelle nostre bellissime foreste di larici e diabeti, ho imparato a capirla meglio. La diversità è la vita, no? È l'essenza della vita, no? È quello che protegge e rende forti. Un bosco tutto diabeti, che è una pianta che pesa metà dell'arice, è più debole di un bosco ricco di diversità. E i boschi che hanno subito le peggiori conseguenze della tempesta di Vaia sono stati i boschi monoculturali. E questa cosa è la vita tutta assieme. I larici acidificano il terreno con i coni che cadono per farsi spazio rispetto agli abeti e dare spazio alle vacche prepascolare. La vita è diversità. Più c'è diversità, più c'è forza, più c'è resilienza. Meno c'è diversità, più ci approssimiamo alla desertificazione e alla morte. Proprio noi lo dovremmo sapere. E la lingua è l'identità, è la cultura. Ancora una volta prendo prestito a una frase famosa dell'Ampezzana, dove c'è una cultura fortissima e bellissima. De chi sosto, di chi sei. Quindi il dialetto e le lingue rappresentano l'identità. Carlo Magno diceva conoscere un'altra lingua vuol dire avere un'altra anima. Allora, se è vero che la lingua rappresenta l'identità, ricordiamoci però che non ce n'è una sola, ce n'è un numero infinito. E non facciamoci intrappolare dentro la nostra lingua, la nostra cultura, la nostra identità, ma cerchiamo di conoscere, guardare, parlare quello dell'altro. Un grande esercizio di crescita. E anche un'altra cosa che voglio dirvi, ho lavorato sulle Olimpiadi di Tokyo 2020, sotto vari aspetti, attenzione che le Olimpiadi non ci rendono gratuitamente necessariamente migliori, ma sono delle lenti di ingrandimento che mostrano anche i problemi. a Tokyo il presidente del Comitato Olimpico del NOC, del Comitato Olimpico giapponese, Mori, un simpatico vecchiardo di 82 anni, che era stato primo ministro, cioè non l'ultimo arrivato, si è dovuto dimettere prima delle Olimpiadi perché a fronte della richiesta del CIO, Comitato Olimpico Internazionale, di avere almeno l'equità nel bordo delle Olimpiadi in termini di uomini e di donne, ha risposto ma così non si decide mai nulla, le donne parlano troppo. Ma neanche alla quarta grolla, in una taverna, è accettabile un linguaggio del genere, e infatti il presidente Mori, l'ex presidente Mori, se n'è andato. Poi è stato beccato anche con le mani nella marmellata per corruzione, guarda caso. Allora, la lingua, la cultura, come impattano sul comportamento, sulla violenza? Lo vediamo tra pochissimo, ma prima ho preso questa foto del dialetto veneto che ho trovato a previso. No palparo a tichignare, lo capiamo, teniamo le mani a posto, gli occhi a posto, la bocca a posto. Lo capiamo cosa vuol dire, no? È nel sentimento popolare, diciamo. Allora, perché a volte non riusciamo a farlo, o c'è qualcuno che non riesce a farlo? Perché c'è qualcosa di più forte che non ha messo sotto controllo. Ecco, prendiamo l'associazione popolare e capiamo che è abbastanza semplice capire quello che è giusto e quello che no. Vi lascio anche questo bellissimo sito che si chiama Parlare Civile, dove trovate la storia dei termini e il loro uso che è molto interessante. Ve ne faccio vedere alcuni scorrendo. Prima prendo, ve ne faccio vedere alcuni per capire quanto non è mai bianco o nero, no? e è l'uso, la storia della parola che determina degli effetti, dei sentimenti, degli stati nell'altro. Poco importa come suona a noi, noi dobbiamo imparare a cominciare a chiederci come quella parola suona, a chi la rivolgiamo. Questo è l'importante. Vi faccio un esempio di un dialogo tra un influencer che stiamo a carriera, una persona su Facebook, è una famosa giornalista, Giulia Blasi, che scrive moltissimo sull'argomento, specialmente su Valigia Blu, che è un sito dell'organizzazione del Festival Internazionale del Giornalismo, quindi un buon punto di partenza per chi vuole approfondire. Allora, l'influencer dice una frase che mi dà fastidio è quando dobbiamo dire una parolaccia in una riunione da qualche parte e diciamo chiediamo scusa alle signore, ma perché? Anche le donne dicono le parolacce, no? E uno gli risponde ma insomma un po' di galanteria. E Giulia giustamente dice ma la galanteria è una forma di sessismo perché gli uomini devono proteggere le donne da cosa? Devi dire una parolaccia, dilla, non scusarti con le signore, non c'è bisogno, le diciamo anche noi e cominciamo a non pensare che le donne siano il sesso debole per esempio, no? Quindi quante piccole pieghe si nascondono nelle parole nel linguaggio? Ma anche ho scoperto questa cosa mentre facevo le slide bellissime. I datteri tra l'altro li mangiate, no? Perché c'era una parete piena in cooperativa li compramo sempre anche noi. Allora, i datteri ci piacciono ma chi vende i datteri sapete come si chiama in arabo chi vende il datter? il tamaro cioè il tamaro il tamaro è il venditore di datteri quindi pensate da quanto tempo noi datteri li prendiamo ma tu sei un tamaro no? Cioè come quanto usiamo le lingue degli altri per essere discriminatori e denigratori non solo la nostra non ci basta prendiamo anche a presto i termini per usarli in questo modo e negro no? Allora negro è una parola che ha una lunga storia nasce la troviamo nelle poesie di Dante di Petrarca di Ariosto secoli fa ma poi c'è stato andate a leggervi un po' se volete approfondire c'è stata molta storia c'è stato lo schiavismo la parola negro è diventata la parola con cui si indicavano gli schiavi tratti dall'Africa nell'America e oggi è una parola intollerabile intollerabile cosa usare? intanto perché dobbiamo definire che quando una persona è di 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 pelle nera dobbiamo definire il colore della pelle diciamo Franco o John o al limite usiamo la nazionalità se dobbiamo dire qualcosa al limite usiamo nero e non e non negro ma anche la persona di colore è diventata una persona e l'espressione scusate di colore è diventata un'espressione già ambigua perché troppo politically correct tra un po' parliamo di cosa vuol dire politically correct allora è difficile no? non nessuno pretende da nessuno e da nessuno la perfezione ma la consapevolezza un po' di d'altronde anche l'espressione le persone di colore le persone di colore guardate la vignetta lì in alto sono tutte quelle che non sono bianche perché non diciamo il bianco e quindi poniamoci delle domande questo sarebbe già un grande passo in avanti e poi ecco sì l'amore il delitto amoroso professor Gallimberti ha proprio detto l'altro giorno in televisione non c'è nessun raptus di follia il raptus di follia non esiste nemmeno in psicologia è una fantasia il raptus di follia cos'è? comprare su Amazon lo scotch per legare i pulsi della compagna che ucciderai tre giorni dopo mettere in macchina il coltello fissare un appuntamento che è un agguato ma qual è raptus? è un'azione che monta da tante cose evidentemente io non voglio non posso interpretare il comportamento di Turretta ma il professor Gallimberti ci dice guardate che non esistono i raptus esistono le condizioni di una persona il disagio che cresce e che monta il delitto passionale ma non fa neanche ridere fa piangere eppure eppure l'abbiamo avuto lo vedremo tra poco fino a da quando eravamo ragazzini noi e poi la diversità la normalità la ecco qua vi metto la faccia del caporale Vannacci che dice la normalità è quello è quello che sta nella norma ma non è vero perché se noi mappiamo i comportamenti delle persone c'è una maggioranza che si comporta in un modo e tante minoranze che si comportano e hanno altri gusti e preferenze e la normalità è tutto è il comportamento di tutti quelli che lo facciamo in tanti perché ci piacciono gli spaghetti e quelli che ci piacciono la pasta di 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 integrale siamo tutti normali anche purtroppo il caporale Vannacci e siamo un insieme di gusti diversi c'è un concetto interessante che è l'intersezionalità cioè ognuno di noi è definito dall'incrocio di tante piccole preferenze e differenze quindi attenzione a legittimare e accettare solo quello che piace a tanti perché tutti abbiamo qualcosa che non piace a tanti dentro e tutti possiamo essere i diversi di qualcun altro poi lo rivedremo tra poco altre espressioni molto comuni usate in modo disordinato il coming out e l'outing ci riferiamo a l'omosessualità e le preferenze sessuali non sono la stessa cosa il coming out è quando io decido di rivelare le mie preferenze sessuali e la mia omosessualità io decido di farlo a chi ed è viene da coming out of the closet uscire dall'armario dallo sgobuzione dove nascondeva una parte di me l'outing è quando un'altra persona decide senza il consenso o l'informazione di rivelare il mio orientamento sessuale un atto di violenza di esposizione quindi attenzione anche quello si parla di pride per avere l'orgoglio ma la sicurezza la serenità di poter dire chi sono e cosa sono femminicidi è un'altra parola complicata perché addirittura ha nell'inglese due varianti il femmicide che vuol dire l'uccisione della donna e il femminicidio viene dallo spagnolo che è una specie di genocidio cioè di voler ridurre le donne vi lascio qui veramente se non andiamo troppo a parlare ma se se non ci stupiamo di definire una forma di omicidio come ad esempio l'omicidio stradale che è definito anche dal punto di vista giuridico perché sentiamo che ha delle caratteristiche particolari ma perché dobbiamo rompere le scatole se nemmeno nel diritto ma nella cultura pensiamo di definire un episodio che è la punta dell'iceberg della violenza di genere come il femminicidio che problema ci crea vi lascio un altro libro di una giovane scrittrice diventata molto popolare in questi giorni Valeria Fonte c'è un passaggio interessante la validazione degli altri maschi il sentirsi maschio uomo accettato dagli altri e gli dice l'ossessione degli uomini non sono le donne sono gli altri uomini la misoginia è il non sentirsi accettati dal branco perché la propria donna ti ha lasciato quindi è un insight un punto di vista estremamente delicato allora nessuno sta mettendo sotto accusa nessuno stanno leggendo in questi giorni ma io non devo chiedere scusa ma chi ti ha chiesto di chiedere scusa a nessuno ma possiamo non stare più zitti di fronte a un linguaggio incivile inaccettabile e non chiamarlo locker room talk linguaggio do spogliatoio ma chiamarlo linguaggio d'odio linguaggio di violenza possiamo farlo? Possiamo anche chi vuole almeno di noi uomini cominciare a dirlo senza sentirsi in colpa no? e ecco qui di Emanuele tu dicevi prima il linguaggio la influenza il pensiero influenza le azioni questa cosa è nota e studiata nell'università da decenni dopo lo vedremo in sotto si chiama Gordon Alport nel 1947 ha disegnato la piramide la piramide della cultura dello stupro della violenza è fatta così in cima abbiamo il femminicidio e gli omicidi che sono la punta della piramide la punta dell'iceberg ma sotto dietro 109 150 omicidi c'è una montagna di violenza di sopraffazione quella è la stupidità ma di chi dice ma in Svezia forse c'è qualche omicidio in meno che in Italia allora di cosa ci preoccupiamo ma il problema non sono i tragici inaccettabili 150 110 90 80 70 omicidi sono la montagna di violenza che c'è sotto di stupri di sopraffazioni la famosa statistica istat rilanciata come da da cretini che dicono ah ma visto in Francia si uccidono un po' più donne ci racconta quella stessa statistica che il 31 virgola 5 per cento delle donne italiane ha dichiarato di aver subito violenza soppruso il 31 virgola 5 per cento questa è la piramide una donna su tre che l'ha dichiarato e probabilmente sono anche di più questo è il problema non c'è non la punta della piramide la piramide che comincia con il linguaggio prosegue con la discriminazione avanza con la soppruso la violenza le molestie e arriva fino a fortunatamente la punta che è ristretta un numero seppur tragico inferiore di omicidi che fino al 1981 erano legali lo stupro se io poi ti sposavo un'ulteriore violenza non era più un reato 1981 cioè stiamo appena io ero ragazzino non eravamo ragazzini noi cioè stiamo appena appena prendo gli occhi su un fenomeno che ha secoli di storia e che era talmente integrato nella cultura che era integrato nella legge il delitto d'onore cioè se se un uomo tradiva una donna questi cazzi se una donna tradiva un uomo la potevi uccidere avevi una pena ridotta a tre anni che è niente non è neanche in galera con la condizionale in Italia questo 20 30 40 anni fa appena adesso cioè stiamo facendo grandi passi ma insomma per fortuna i primi stiamo facendo allora vediamo un po' la molestia sessuale un altro termine molto ambiguo oggettivamente molto ambiguo anche dal punto di vista giuridico ma fortunatamente sempre di meno tante organizzazioni stanno definendo quello che è accettabile e quello che no un comportamento indesiderato a connotazione sessuale che viola la dignità dei lavoratori espressa in forma fisica verbale non verbale valore di la situazione delle principali aziende italiane in termini di diversità leni fissare in modo suggestivo fare gesti sessuali inappropriati usare aneddoti barzellette racconti a sfondo sessuale che mettano a disagio l'interlocutore esprimere valutazioni sulla sessualità l'attrazione fisica fare commenti sull'aspetto l'abbigliamento o parte del corpo leni cioè non google è un'azienda pachidermica hanno punto di vista culturale è arrivata già qui inviare comunicazioni sessualmente suggestive in qualunque formato ve le riassumo ci sono tantissimi ormai documenti che definiscono cos'è la molestia nel diritto è sanzionata la molestia non c'è un reato specifico per la molestia sessuale ma la molestia sessuale è la prima che cade dentro il reato delle molestie cos'è una molestia sessuale un comportamento indesiderato che mette a disagio chi lo riceve anche se non metterebbe a disagio per così poco non è importante quello che dici tu tantomeno quello che dici dopo per giustificarti anche se non metterebbe a disagio nessun altro dentro la tua organizzazione ma mette a disagio quella persona è una molestia non è come lo vivi tu e come lo vive chi lo subisce verbale fisico o digitale può essere anche una parola può essere anche un messaggio può essere anche mostrare delle foto non sempre non solo toccare anzi quando si arriva a toccare si arriva a sconfinare facilmente con la violenza sessuale che è più grave della molestia se riferita questa è la molestia se riferita alla sfera sessuale o fisica diventa molestia sessuale poco importa che io sia un tuo superiore è aggravata dall'abuso di potere ma non è necessario che lo faccia una persona in posizione di potere perché sia molestia sessuale basta che sia indesiderata che crei disagio in qualunque forma si esprima verbale fisica o digitale quindi attenzione attenzione la violenza sessuale invece significa costringere una persona a subire atti sessuali anche in forma di inganno anche approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica per esempio una persona ubriaca peggio se l'hai detto una pillola atti sessuali non è solo la penetrazione è anche atti di libidine il palpeggio o altre cose sono atti sessuali quindi quella non è più addirittura una molestia è già violenza sessuali siamo già un livello oltre allora è difficile muoversi in questo ambito perché poi abbiamo situazioni in cui un atto di molestia di violenza è un complimento quello non è un complimento i complimenti sono già un terreno scivoloso e quindi come dire nei luoghi di lavoro sarebbe meglio usarli con molta parsimonia non sono sanzionati ma facilmente sconfinano in qualcosa che non sono e rischiano di diventare inadeguati quindi teniamoceli per noi le avance sono lo stadio dopo i complimenti e sono proprio l'approccio il tentativo la proposta di uscire assieme di avere rapporti nessuno vuole un mondo dove due colleghi non possano fidanzarsi o scopare non so come dire avere un rapporto sessuale va benissimo non c'è niente di male ma è un incontro di consenso le avance diventano già zona arancione vicinissima alla molestia e devono rappresentare l'eccezionalità e la sincerità del sentimento che c'è dietro l'eccezionalità e la sincerità del sentimento che c'è dietro è un attimo passare da quello che pensiamo un complimento sincero e il più delle volte è una scusa per giustificare un atto di sopraffazione o di autoaffermazione di scherzo tra maschi in qualche modo la molestia è come abbiamo visto il comportamento non sollecitato indesiderato che crea disagio sono ormai sanzionate dai codici di condotta aziendali vuol dire venire sospesi o licenziati confermati dalla Cassazione quindi mettiamoci il cuore in pace e possono anche diventare dei reati il reato di molestia pur non avendo il reato specifico di molestia sessuale dopodiché non c'è c'è niente c'è la violenza c'è il reato di violenza sessuale articolo 609 del codice penale si finisce in galera ma giustamente a mettere le mani addosso a qualcuno esempi baci carezze pacche sul sedere una mano sul fondo schiena gli invito a mostrare il sedere giovanile non possono essere considerati rispettosi di nulla sentenza 26 settembre 2073 della Cassazione e conferma licenziamento il reato di molestia o disturbo alla persona si commette anche con l'invio di messaggi anche se non sussiste la volontà di offendere le allusioni a sfondo sessuale un collega giustificano il licenziamento non è un attenuante il clima di goliardia così è stabilito la corte di Cassazione lesbica è un insulto discriminante la Cassazione conferma il licenziamento benvenuti in un mondo finalmente civile no? prima una diffida poi la contestazione le tre di licenziamento le avance reiterate e sgradite che hanno riportato disagio fastidio paura comportamenti continuati intenzionalmente disattendendo la diffida ricevuta licenziamento legittimo secondo la cosa di Cassazione così come frocio lesbica e altri termini ah ma il politically correct il politically correct allora ne parliamo un minuto anche di cos'è il politically correct l'ha invocato chi? un professore universitario Marco Bassani l'anno scorso che è stato sospeso e poi per fortuna sua reintegrato perché condivide sui social media un articolo dicendo parlando della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ecco un bel esempio che andando a letto con gli uomini potenti puoi avere il lavoro che vuoi allora c'è una discussione negli Stati Uniti che nel 1994 Kamala Harris ebbe alcuni incarichi dal sindaco di New York con il quale aveva una relazione benissimo può darsi è giusto? no ok se è così non è giusto il problema non è questo possiamo criticare Kamala Harris se ha avuto dei favoritismi però quello che non va bene è che se lo fa un uomo è nepotismo se lo fa una donna diventa prostituzione è l'oggettificazione della donna che non va bene non il criticarla ma il trasformarla è in oggetto sessuale allora il politically correct che è un termine che ha una storia lunga e complicatissima spacca un po' i paesi in due no? ma chi ce l'ha col politically correct? Donald Trump perché? perché dice che gli immigrati messicani sono tutti portatori di droga di crimine violentatori sotto una ragazzina immigrata messicana che dice io veramente non sono né una spacciatrice né una stupratrice sono una ragazzina che si sta trasferendo qua allora guarda caso i maschi bianchi di destra americani hanno un problema con le politically correct cioè pensano che la gente si offende troppo facilmente le persone di colore pensano che la gente dovrebbe stare più attenta a come parlo allora un termine che è diventato come tanti altri no? poi oggetto di un dibattito sociale ma il tema è il rispetto e da una carica istituzionale ce lo dovremmo aspettare più che dagli altri la cancel culture la cancel culture nasce questo termine e diventa popolare quando un rapper fighter lascia la propria fidanzata di colore in tv dicendo you're cancelled ti annullo ti disdico come la prenotazione al ristorante e questo termine nasce proprio da 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 un atto di violenza vedremo tra poco come usare walk che oggi è usato diciamo da da per deridere chi sta attento alle cose il walk nasce vuol dire stai attento stare vigile nasce dagli anni 30 dalla cultura degli afroamericani e da marcus garvey nella attenzione alle discriminazioni che subiamo e oggi viene usato guarda caso sempre da trump ma tanti altri dalla destra americana per definire come scemi quelli che stanno attenti ai diritti anche qua vi faccio vedere una ricerca interessante negli negli stati uniti di come a seconda dell'appartenenza politica l'espressione cancel culture viene usata in modi diversi punire le persone che non se lo meritano maschi bianchi di destra ritenere responsabile per le loro azioni le loro parole le persone viene chiamata anche call out culture allora anche qui il confine tra chiamare qualcuno a rispondere delle proprie parole delle proprie azioni e fare public shaming che non va bene mettere l'agonia a qualcuno è sottile come sempre dipende dalle intenzioni e dal rispetto ma non facciamoci azzittire da poche persone che vogliono mantenere un comportamento di aggressione di violenza e non vogliono che questo venga sanzionato e giudicato è inaccettabile questo linguaggio questo non è cancel calcio questa è civiltà il linguaggio d'odio qua abbiamo il signor giubilei tacete stupide magari tacete con le vostre stupidaggini sul paternalismo ma tacete stupide è un linguaggio incivile inaccettabile c'è un bellissimo libro che trovate anche questo sicuramente in cooperativa stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo più sentire dimmi che la bugia stai zitta che poi guarda a caso è sempre zitta non sento mai dire stai zitto quando parla una donna però è stai zitta il linguaggio d'odio è definizione delle Nazioni Unite qualunque comportamento verbale scritto comportamentale che attacchi o utilizzi un linguaggio peggiorativo o discriminatorio nei confronti di una persona o di un gruppo per la propria appartenenza etnia razionalità razza troppo frequentemente lo troviamo nei media lo troviamo nella nostra classe politica e anche questo non dobbiamo più accettarlo non è una questione di partito politico di destra e di sinistra da dovunque provegna allora il linguaggio accompagna anche le cause per cui ci battiamo però vedete come solo una giusta causa un giusto linguaggio portano a qualcosa di accettabile di positivo io posso avere una causa giusta ma promuoverla con un linguaggio sbagliato cosa ottengo la polarizzazione spacco il paese la divisione problemi di comunicazione non è un comportamento positivo la giusta causa ha bisogno di un giusto linguaggio se la causa è sbagliata non generiamo nulla di buono se non l'opportunismo imbellettandola con un linguaggio giusto e arriviamo proprio alla repressione fascismo la violenza imponendo una causa sbagliata con un linguaggio sbagliato è complicato no è complicato allora qui vi proverei a coinvolgere e vi mando nella chat il link o se volete potete fotografare questo QR code e proviamo e ho fatto un piccolo quiz alcune domande diciamo per per metterci un po' alla prova per capire come sia sempre difficile ma un buon esercizio di ascolto di sé usare un linguaggio corretto diciamo adesso apro anche io ho qui le slide e vi aspetto dentro sono quattro slide consecutive che vedrete qui a schermo le vedrete sul vostro telefonino con cinque scusate con cinque poi risultati che vedremo che vedremo dopo quindi io intanto aspetto che vi colleghiate questo è già in 15 quindi grazie mille poi faccio partire la prima domanda sono generalmente tre risposte possibili e poi vedremo assieme come rispondiamo e come la cultura popolare ci offre sempre delle scorciatoie spesso sbagliate va bene allora siete già in tante quindi io farei iniziare il quiz ci sono c'è un piccolo contro la rovescia prima che inizia eccolo qua dire a una collega che si alza dal tavolo durante una riunione che bei pantaloni com'è? è una cosa normale non si può più dire nulla? è un apprezzamento molesto inaccettabile che fa rischiare il licenziamento? dipende dal contesto della confidenza non dipende dal contesto della confidenza perché siamo siamo in un ambiente di lavoro siamo di fronte a altre persone e quindi se quella persona è la tua compagna glielo dice a casa se vuoi ma non anche se quella persona fosse la tua compagna davanti agli altri non va bene chi ti autorizza a esprimere giudizi sugli altri di fronte e le altre persone ma chi vi ha dato ci ha dato questo potere domanda 2 invita inviare a una collega ripetuti inviti a uscire via mail biglietti messaggi è un comportamento intollerabile che può diventare stalking o molestia e insomma dovrebbe far piacere basta non siano troppo frequenti tipo una volta alla settimana poi ne discutiamo se volete tra un po' c'è lo spazio per le domande quindi se non siete d'accordo mandate una cosa in chat o tenetevela lì e tra qualche minuto ne parliamo quindi invitare ogni settimana un collega o una collega a uscire che ha detto di no va bene ogni settimana cioè ogni lunedì lunedì ti mando un invito gli dico mi farebbe piacere una volta se volessimo uscire assieme guarda faccio proferire di no lunedì dopo dai usciamo assieme guarda proferire di no lunedì dopo guarda dai mandiamo a baci una birra cioè quante settimane può andare avanti questa cosa domanda tre dire a un collega o una collega che interrompe il proprio discorso stai zitta è normale perché è maleducata e mi è interrotto è linguaggio d'odio spesso sessista in quanto raramente lo si direbbe a un uomo adesso è un'espressione maleducata non vedo le vostre reazioni vedo che stiamo colpendo nel segno di quanto è complicato questo discorso tra pochi minuti poi ho anche terminato e lascio spazio alle domande quindi non preoccupate se una persona interrompe in modo maleducato gli si dice se è maleducata non interrompermi non si dice stai zitto stai zitta stai zitto stai zitta è al confine con la minaccia è degradante è un linguaggio aggressivo non è solo maleducazione vi consiglio il libro di Michela Mugia alla riguardo abbiamo materia per discutere se vogliamo nello spazio toccare con una pacca una carezza una mano appoggiata una stretta è un gesto di goliardia basta non duri troppo è un comportamento inaccettabile che anche questo l'abbiamo anche visto spesso è anzionato con licenziamento poi vi dico un pensiero che è venuto a me la settimana scorsa fatto rispetto proprio a una collaboratrice l'altro giorno ho fatto un pensiero sono andato alla nostra collaboratrice vado saluto ciao beh do un bacio gesto innocente se vogliamo di affetto ma perché dobbiamo decidere che va bene baciare le colleghe che ci va di baciare quelle che ci dicono carriere che non bacio quella un po' buongiorno ma perché perché dobbiamo venire perché una persona deve venire baciata dai propri colleghi che hanno la voglia di stringerle baciarle toccarle mettiamoci nei panni nei panni dell'altro ultima domanda il tuo posto è a casa a fare figli è un modo maleducato di esprimere un'idea oggi lo pensano in tanti ma non è politica il corretto è un'espressione civile discriminatoria sotto cui sarà un'altra montagna di cose diciamo sentito dire sentito dire tanto e spesso ecco mi vedo un po' più compatte e compatti diciamo ok allora torno torno alle mie slide un italiano su cinque condivide l'idea che le donne dovrebbero stare a casa e prendersi il cuore della famiglia solo per la famiglia su cinque attenzione che questa cifra del 20% non è uguale no è composta da persone 28% più anziani 22% di senza media alimentare quindi è un pensiero sempre più da persone sempre più vecchie e sempre meno educate e preparate seppur minoritario ma il 20% è una cifra enorme ma nella realtà cioè gli altri che dicono no è inaccettabile però quando gli si chiede ma chi si occupa della casa dei figli nell'80% dei casi è la madre quindi siamo tutti bravi a dirlo ma non siamo tutti bravi a farlo 81-9% è la madre che si occupa dei figli allora a voia se ne abbiamo da fare le donne guadagnano meno lo riconosce il 40% ma solo il 23% degli uomini mentre il 50% delle donne riconosce che guadagna meno quindi abbiamo delle disparità di percezione o di dichiarazione e c'è un bel salto ancora da fare qui trovate il General Equality Index dei vari paesi europei la media europea è 70,2 noi siamo a 68 siamo sotto vedete ci sono paesi sicuramente che stanno peggio di noi ma poi la vediamo divisa per inegualità al lavoro nel potere nella salute nella monetaria nella conoscenza nel tempo dedicato quindi per chi vuole approfondire ci sono tante statistiche interessanti allora come ci dicevamo parlare giusto è solo il primo passo questa piramide che vedete nasce da 1954 Gordon Alport uno psicologo americano che è stato il primo a studiare la personalità e i pregiudizi con un libro fondamentale che si chiama alla natura del pregiudizio e lui le chiamava le antilocuzioni il linguaggio d'odio sono la base dopo dopo il linguaggio d'odio zitta lesbica no? c'è l'emarginazione il non coinvolgere le persone che discriminiamo poi c'è la discriminazione il non metterle in condizione di fare le cose poi c'è l'attacco fisico e poi c'è l'uccisione o la o la sterminazione sotto i 109 femminicidi che non sono questo triangolo arancione sono la puntina c'è una montagna per cui il 31,5% delle donne italiane ha dichiarato all'istate che aveva subito violenza una su tre 28 milioni 8-9 milioni di donne non 109 questa è la dimensione del problema e se 8-9 milioni di donne hanno subito violenza l'avranno subita tutte dagli stessi dieci pazzi o l'avranno subita da 8-9 milioni di uomini e i pregiudizi poi mi è venuta in mente la frase bellissima di Luciano De Crescenzo che siamo sempre i meridionali di qualcun altro e quindi attenzione perché accettare una cultura del pregiudizio non è solo ingiusto per chi sta subendo quel pregiudizio vuol dire accettare una società ingiusta e prima o poi ne faremo i conti anche chi pensa di non essere il meridionale o la donna o i gay di nessun altro allora cosa possiamo fare o cosa dobbiamo fare cosa possiamo fare qual è e poi veramente concludo e lascio spazio a Emanuela e vediamo se c'è qualche domanda o discussione ma sietele benvenuti benvenuti a esprimere non solo domande ma anche così discutere quello che abbiamo visto c'è una frase bellissima di un poeta egiziano la casa non è dove si è nati ma è dove cessano i tentativi di fuga e il bisogno di fuggire dove ci si sente sicuri c'è un concetto molto importante nelle organizzazioni ma in generale che si chiama la sicurezza psicologica e quindi dobbiamo il lavoro la rivoluzione culturale quello di cui si sta parlando è che dobbiamo costruire un clima o una ciasa se vogliamo a Lampetzana un luogo di sicurezza psicologica dove si si sente tranquilli e tranquilli e sicuri e sicuri di essere inclusi di essere accettati di poter dare un contributo alla società di poter fare una domanda e di poter dire che non si è d'accordo ovviamente che non si è d'accordo ad avere un rapporto sessuale ma ci mancherebbe altro ma che non si è d'accordo che non si è di dire no la libertà di dire il proprio pensiero senza timore di conseguenze questo è il concetto di psychological safety sempre più cardine Google lo definisce the most important thing nel proprio organizzazione HR ma questo è quello che ci deve essere la libertà e sicurezza di uscire per strada di sentirsi accettate di dire la propria opinione senza timore di conseguenze sempre facile ma siamo ancora lontanissimi ed è molto molto importante vi lascio con questa bellissima foto che ho trovato del patinaggio e anche guardate che c'è una parola a pensare bellissima il Grammarzea dute se non sbaglio è un bellissimo espressione neutra perché quel dute vuol dire tutte e tutti in qualche modo o sbaglio non lo so ho fatto un po' di ricerche ma è sempre difficile ci vorrebbe Ernesto Maioni ma qualcuno lo sa di sicuro allora guardate che ricchezza c'è dentro anche la nostra storia e la nostra cultura bene Marco tanto grazie per la ricchezza della tua presentazione che sicuramente ci ha messi tutti quanti in discussione perché siamo sempre in discussione no? come? non c'è niente di male a mettersi in discussione era l'obiettivo di questa mattinata perché per quanto possiamo immaginarci di aver sviluppato nel tempo una sensibilità su determinate dinammatiche ma come dicevi durante l'introduzione ci sono sempre quei bias che ci portano a incorrere degli errori e quindi questi momenti come quello che stiamo passando insieme questa mattina servono fanno bene anche quando ripetuti perché servono a tenerci allenati e ogni volta fare un passo in avanti e sono arrivate delle domande intanto perché abbiamo persone che ci stanno seguendo online ma abbiamo anche qualcuno che ci sta seguendo direttamente dalla cooperativa e devo dire che il questionario finale come abbiamo visto ci ha ci ha portati a scivolare qualche volta nonostante tu ci avessi già dato tutte le istruzioni qualcuno di noi io stessa io per prima abbiamo fatto qualche scivolone e quindi ci piacerebbe vedere la montagna è una grande maestra quando imbocchiamo lo scorciatoio dobbiamo stare ancora più attenti verso noi stessi dove mettiamo i piedi perché è ancora più facile scivolare lo sappiamo quindi è una grande cultura molto educativa ecco abbiamo la richiesta proprio di approfondire in particolare due domande e quindi le due risposte corrette la prima era quella che sul complimento sui pantaloni ecco questo ci chiedevano in particolare perché diciamo che la risposta corretta conteneva l'ipotesi di licenziamento che forse è un'affermazione molto forte quindi adesso la vado a condividere ecco ecco qua ma allora a una persona che si alza e da un tavolo di salariunioni si gira e esce dire che è bei pantaloni uno sta dicendo che è bel culo cioè diciamoci la verità non prendiamoci in giro cioè un apprezzamento del genere è un modo un po' probesco di di fare un apprezzamento di natura sessuale lo ci è arrivata leni leni non so come dire che non è l'impresa più progressista del mondo a ritenere che gli apprezzamenti sull'abbigliamento possono essere l'apprezzamento di natura sessuale allora nessuno sta dicendo cioè dipende sempre dal contesto dalle intenzioni no ma la scena descritta è una collega che si alza dal tavolo durante un'essere riunione c'era una fotografia cioè nel senso stiamo in un contesto poco ambiguo no se vogliamo allora è normale non si può più dire nulla si può dire tutto ma non si può prendersi la libertà di fronte agli altri colleghi di fare un apprezzamento sessuale su una collega che viene evidentemente sicuramente messa in imbarazzo questo no ma questo non vuol dire non si può più dire nulla si possono dire un sacco di cose queste no c'è una linea no c'è una linea e se proprio lo devi dire ti entela nel dubbio ti entela dentro ma in qualche modo far rischiare il licenziamento allora probabilmente come dire è un apprezzamento molesto inaccettabile sì ci sono casi per cui persone che hanno reiterato questi comportamenti hanno avuto delle sanzioni da parte dell'organizzazione fino ad arrivare al licenziamento quindi mi sto dicendo occhio perché saranno sempre meno tollerate e questa è la tra virgolette rivoluzione culturale che viene invocata oggi la chiamata in causa degli uomini che di fronte a questo linguaggio è faticoso e difficile sentire il clima di sicurezza psicologica per una donna per rispondere e c'è troppa ve lo dico io spontaneamente non mi sento obbligato chiamato in causa a dirlo c'è troppa connivenza maschile vorrei sentire un uomo che si gira e gli dice ma come ti permetti in quella riunione questo è un punto di partenza non di arrivo sarebbe un punto di partenza che in quella riunione un uomo si girasse e dicesse ma come ti permetti e la vedo lontanina ancora no questa 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 situazione no scusa ma forse ce n'era anche un'altra che era comunque questo il contesto da cui si partiva ed è un'affermazione che in molte altre situazioni si è sentita molto dire anche quando è nato il movimento Me Too questa potrebbe diventare una scusa per licenziare più facilmente però dire con la risposta che hai dato hai hai chiarito benissimo di che cosa si sta parlando perché si tratta in questo momento di era quello che dicevamo all'inizio di entrare in un'ottica in cui le parole sono importanti le parole hanno un peso le parole soprattutto quando reiterate formano un modo di pensare e formano la cultura in cui siamo immersi ci ha spiegato molto bene che addirittura l'ENI una società così istituzionalizzata così storica ha acceso un riflettore su quali sono i comportamenti corretti e quali non lo sono quindi come dicevamo all'inizio questo deve essere anche una palestra per cominciare ad allenarci al fatto che certe cose non sono opportune mettono in imbarazzo anche se è normale l'hai detto tu all'inizio che ancora si scivoli però bisogna essere consapevoli la consapevolezza è quello che oggi questa ora passata insieme ci può portare ci ha portato e ci può portare quindi la discussione è normale è sana perché ci serve a ad illuminare un aspetto che al momento assolutamente ritenuto normale se ci dipende dal contesto ma invece alla fine il contesto è quello lavorativo e quindi nel contesto lavorativo dobbiamo comprendere che un complimento può essere fonte di imbarazzo e comunque una fonte di imbarazzo che difficilmente può essere esplicitata ma poi guardate che nessuna azienda licenzia su due piedi come un cowboy distinto o su un'onda emotiva non funziona così neanche ma neanche nella bottega non funziona così ma maggiormente nelle organizzazioni minimamente strutturate il sentenza che vi leggevo della Corte di Cassazione prima una leggo il paragrafetto qua sotto prima una diffida poi la contestazione quindi la lettera di licenziamento quindi sono almeno tre volte con due diffide ma sono molte di più avanzano su due colleghe reiterate e sgradite quindi io non mi sto dicendo che nello stesso secondo avviene il pantaloni tac e licenziato non funziona mai così ma è un comportamento inaccettabile e che prevede la sanzione poi avverrà il richiamo la lettera la cosa ma cioè possiamo a un certo punto rendersi conto che non va bene o continuiamo perché se continuiamo a quel punto praticamente dov'è la giustificabilità bene allora abbiamo anche un po' sforato le 12 diciamo ma intanto vi ringrazio mi ha fatto molto piacere avere tanti partecipanti per un momento sempre difficile sabato mattina e lascerei chiudere salutare a te Emanuela e poi vi rimandiamo a un dialogo sempre costante e al video che pubblicheremo anche per chi volesse vederlo o segnalarlo a qualcun altro insomma io ringrazio soprattutto la cooperativa che è sempre mi onora dell'invito della collaborazione che mi fa veramente particolarmente piacere anche perché la trovo una realtà con una storia con una realtà quotidiana fantastica di costruzione della cultura in una comunità diciamo che è quello di cui stiamo parlando piccola ma bellissima e importante come quella ampezzana o grande e complicata come quella italiana quindi grazie ancora beh io ringrazio prima di tutto tutti coloro che hanno partecipato e tutti coloro che hanno partecipato oggi ma grazie soprattutto Marco che in un'ora è riuscito ad aprirci una visione e penso a per comprendere a tutti noi che abbiamo tanto lavoro da fare nel quotidiano e oggi abbiamo ognuno di noi si può portare a casa degli spunti nuovi ed è stato molto utile anche la partecipazione alla discussione finale da parte di chi ci ha seguito sono molto contenta anche che questo momento non si concluda qui ma sia poi ricordo sarà possibile rivederlo perché la puntata è stata registrata e quindi verrà poi resa disponibile sul canale youtube della cooperativa e credo che anche noi che oggi l'abbiamo seguito in diretta avremo il piacere di andare a riprendere alcuni passaggi nella nostra vita quotidiana grazie davvero a tutti quanti e grazie di essere stati con noi anche dieci minuti in più perché vuol dire che questo è il successo di questa ora trascorsa insieme grazie a tutti grazie buon weekend buon weekend a tutti grazie